I giardini pubblici delle ghiaie sono chiusi fino a tarda mattinata di sabato per consentire l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria previsti nell'ambito del piano di interventi sul verde pubblico della città. Lavori del costo di oltre 90 mila euro, la cui esecuzione è stata affidata alla società partecipata del comune Cosimo de' Medici. I lavori, spiega l'assessore ai lavori pubblici, Leo Lupi, consistono nella pulizia, nella soppressione di piante malate, nella potatura delle siepi, nella rimozione dei tronchi residui delle palme abbattute e in passato nella sistemazione degli arredi e nel completamento dell'installazione di nuovi giochi al posto di quelli ormai deteriorati. Proseguiranno nelle prossime settimane con la messa a dimora di nuove alberature al posto di quelle perdute. In uno dei giardini è prevista anche la presenza di un campo polivalente per basket, pallavolo e calcetto a disposizione dei ragazzi che sarà realizzato entro la fine del mese di aprile.